Il Pescara ha dunque esonerato il tecnico Antonello Cucureddu. L'avventura dell'allenatore di Alghero in rival adriatico è durata meno di un anno. Era arrivato nel marzo del 2009 per salvare il Pescara dalla retrocessione. Poi la conferma e lo squadrone affidato gli per compiere il salto in B. Cucureddu paga a caro prezzo la squallida prestazione offerta con la Cavese e i risultati negativi dell'ultimo periodo. Un momento un po' triste perché salutiamo, abbiamo salutato una persona in cui abbiamo creduto e che abbiamo sostenuto, persona serissima che ringraziamo per il lavoro che ha svolto. Purtroppo lo spettacolo che abbiamo visto nelle ultime domeniche, l'ultima in particolare non è degno della squadra che abbiamo e neanche delle aspettative anche minime se vogliamo che possiamo avere. Quindi era nostro dovere rivedere la situazione. La società si è riunita nel tarto pomeriggio di martedì e dopo un paio d'ore c'era già il nome del sostituto, promosso Eusebio Di Francesco dalla formazione Berretti. Con l'ex centrocampista di Roma e Nazionale collaboreranno il secondo Francesco Tomei, il preparatore dei portieri Gianni Di Giacomo, Franco Gianmartino curerà la parte atletica mentre il dottor Vizzoco si occuperà del recupero degli infortunati. Alla conferenza stampa di presentazione del neoallenatore c'era anche una rappresentanza dei tifosi, ormai una consuetudine, i quali hanno messo in chiaro che ora le responsabilità sono tutte dei giocatori e del direttore generale Fabrizio Lucchesi. Sul fronte mercato qualche movimento ci sarà, intanto non è ancora ufficiale il passaggio di Romito al Benevento, ma Di Francesco preferisce concentrarsi sul Lanciano, peraltro sua ex squadra e sul modulo che sarà diverso rispetto al passato. Io in linea di massimo con la difesa quasi sempre, ma sicuramente a 4, con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3. Valuteremo un attimino qual è la situazione migliore in base anche alle caratteristiche degli uomini che ho a disposizione. Appunto, gli uomini che hai a disposizione ti permettono di giocare? Dipende, non lo so perché oggi ho ancora non incontrato i ragazzi, ho ancora non incontrato il staff medico e per fare una valutazione per domenica prossima mi è difficile in questo momento, magari venerdì faremo più il punto della situazione.